la prima persona nemmeno ci ho pensato un attimo benvenuto ed è già pronto di tappa allo mimmo ti presento la storia di martina franca e bicicletta in persona il guai e moda le mascherine perché a me ma che la nuova c'è ne vado c'è l'esercizio io che che hanno sono diventato ciclista dopo la morte di mio padre perché siccome sono nato dopo vent'anni mio padre del 1883 e allora lo sport non era considerato lo sport a martedì il vassasaggio pensare a studiare pensare a patriare perché o giocare a pallone o andare infatti i ciclisti dell'epoca sempre di nascosto nei genitori vabbè perché ripeto lo sport era considerato l'assasaggio cioè da ragazzaccio io dico sempre che mi sforzai di più a tirare la bicicletta dalle dalle mani di mio padre che ad andare e tornare da casa ciao 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 Grazie a tutti.